Papà, tu non mi puoi aiutare. So io qual è la soluzione. Beh, allora se lo sai... Perché stai aspettando? Perché è un obiettivo impossibile, come le scale di Escher. Le scale di Escher sono un'illusione, mentre la tua vita è vera. Un amore che non hai realizzato ti lascia dentro un vuoto enorme. Un vuoto che si riempie di amarezza. Di indifferenza verso la vita. Ci sono passato anche io. E ho scelto la mia famiglia. Fortunatamente. Sì, così dicono. La felicità dei figli viene prima della tua. Non c'è il minimo dubbio su questa cosa. Ma mi chiedo, i bambini sono davvero felici quando i genitori non lo sono? Ti prego, basta fare demagogia. Sì, certo che sono felici. E tu? Tu eri davvero felice? No, non lo ero. Ma era per colpa della mamma. Lei doveva controllare sempre tutto e tutti. E non mi piaceva come ti trattava. Esatto. Perché, secondo te? Non è una tortuosa scala di Escher. Si tratta solo della legge di causa ed effetto. E' anche se tratta solo di escherli. Ma non è una tortuosa scala di e anche se tratta. Ma non è una tortuosa scala di escher. Ma non è un'unica. E' anche qui iniziata. Mi piaceva del loco.